Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Valentina e mi sono laureata in scienze del turismo all'Università dell'Insubria. A completare poi il mio percorso di formazione c'è stato un Master in International Hospitality Management che mi ha assicurato una certa esperienza all'interno del mondo dell'hotellerie. Oggi invece mi occupo di production a Secret Escapes, quindi un'azienda inglese, una realtà giovane molto brillante. A rendere più apprezzabile il mio curriculum c'è infine un'esperienza di studio all'estero in America realizzata grazie ad un programma di scambio culturale promosso dall'Università. Oggi mi sento di dire che gli anni accademici sono stati preziosi per la costruzione della mia carriera perché da una parte mi hanno conferito le nozioni e le competenze indispensabili in ambito lavorativo e dall'altra mi hanno garantito la maturità necessaria a relazionarmi con gli altri professionisti del settore. Auguro anche a voi tanta fortuna, un futuro notariera brillante. Ciao! Grazie a tutti!